Buongiorno a tutti, siamo qui a Involandia, sono Gianluca Passarella, pilota e costruttore di droni. Oggi volevamo presentarvi dei progettini realizzati insieme a Gianfranco Frontini, un ingegnere aeronautico che ha pensato di creare dei frame per droni di tutte le misure, come potete vedere, fatti con una lega particolare che è l'Avional. Abbiamo realizzato, io mi sono occupato della parte elettronica, con la solita elettronica che monto di solito sui 300, anche un esemplare con un peso inferiore ai 300 grammi. In questo momento siamo ancora in fase di test, prossimamente ultimeremo tutte le varie prove e quindi poi usciremo dalla fase di test e sarà un oggetto usabile e certificabile o comunque riconoscibile nelle liste ENA, anche per poter volare in operazioni critiche. Gianfranco, spiegaci come ti è venuta questa idea. Allora, prima di tutto questa è la famiglia Quadroni, come vedete struttura A quadrato, struttura reticolare, è una famiglia. Stessa configurazione, scalabile, come si può vedere. L'idea è stata quella di applicare semplicemente i concetti aeronautici a questa macchina da volo, ovvero l'uso di materiale aeronautico, lega Avional 20-24, la miera, spessore 4 decimi, quindi leggerissima ma molto robusta perché è una lega paragonabile all'acciaio come resistenza, con un rapporto peso-prestazioni assolutamente imbattuto rispetto a qualsiasi altra configurazione che sia in carbonio, che sia in plastica, che sia quello che volete, quindi full metal. La struttura, un altro concetto da cui sono partito, è una struttura autoprotetta, come vedete tutto è all'interno di questa gabbia, quindi il drone può cadere, credetemi, ne sono caduti n volte durante le prove, non si rompe, non si fa niente. Se per caso si danneggiasse in qualche parte, un altro concetto che ho applicato, che ho voluto applicare è, in inglese si dice design for assembly e disassembly, ovvero facilità di costruzione, di assemblaggio e facilità di smontaggio nel caso di ripararlo, per cui super leggero, otto viti per tenere insieme la struttura, questo è il concetto.